Nella quindicesima giornata nazionale delle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo, la Fondazione Anfas Rosa Blu di Chieti ha incontrato i cittadini in piazza Vico con un'iniziativa ispirata alla performance dell'artista Marina Abramovic. A incontrare lo sguardo dei disabili tra le tante persone intervenute in piazza anche il questore e Monsignor Forte. Hashtag Donaci uno sguardo è stata anche l'occasione per riflettere sul dramma dei disabili impossibilitati a scappare dalla guerra in Ucraina. Erika Toto, Presidente della Fondazione Anfas Rosa Blu di Chieti, una giornata per incontrare il mondo della disabilità. Quanto sono importanti eventi come questo? Sono molto importanti per la sensibilizzazione della cittadinanza, per farci conoscere e per fare in modo tale che le persone devono capire di non avere assolutamente paura della disabilità e che ci siamo anche noi, che a volte siamo anche un pochino trasparenti agli occhi degli altri. Questo è un giorno importante perché diceva che è ritornata in presenza dopo la pandemia insomma che ha bloccato tutto. Assolutamente sì, oggi è la prima giornata in presenza perché abbiamo passato due anni difficilissimi e in quale migliore occasione in questa giornata dell'evento nazionale sulla disabilità. Anche il questore di Chieti, Annino Gargano, si è seduto, ha incontrato gli occhi di una persona che si è prestata a questa giornata, a questo incontro di sguardi. Possiamo chiederle cosa ha scritto su quel cuore? Che in quegli occhi bellissimi di Nadia ho visto la bellezza della sua anima e la bellezza del suo cuore. E quindi un bacio alla mia grande amica, a lei ma a nome suo per tutti gli altri grandi amici dell'Anfas. Monsignor Bruno Forte, arcivescovo della Chiesa Metropolita di Chieti-Vasto, nella giornata nazionale della disabilità questa tematica contestualizzata in un fronte che è quello poi della guerra in Ucraina assume un significato ancora più importante perché un altro allarme che è stato lanciato anche in questi giorni, anche dall'inizio della guerra, è relativo al fatto che i disabili rimangono intrappolati. Ma guardi, se la guerra è una tragedia per tutti ed è un disastro, lo hai tanto più per chi è più debole e per chi è più fragile. Quindi se noi vediamo oltre 3 milioni di profughi che cercano riparo in altri paesi europei lasciando tutto della loro vita, immaginiamoci i disabili quante difficoltà potranno incontrare. Ecco perché quest'anno la giornata di attenzione e diversamente abili deve essere una giornata che si estende ad abbracciare in particolare quelli che stanno soffrendo a causa di questa tragedia della guerra che è stata sconsideratamente voluta dalla Russia di Putin. Siamo di fronte veramente a un male che fa solo male e produce solo danni. La preghiera per la pace deve essere incessante ma occorre anche che i potenti della terra si muovano per indurre specialmente chi è stato l'aggressore a trovare una via per ristabilire la pace nella giustizia perché le ferite all'inferta e all'Ucraina e ai tanti ucraini e anche disabili sono ferite che dovranno essere riparate.